No ecco, quello sì, ho un po' lavorato, ho provato a dire di essere più cattivi, più cinici, ho detto addirittura il gol è buono anche se si fa con la punta del piede come ha fatto Cavani con l'Atalanta. Ecco questo, l'importante è far gol, quando creiamo i presupposti per farlo, non come si sta facendo da un po' di tempo e lo facciamo un po' è un po' il nostro difetto, che per fare un gol bisogna sbagliarne 5 davanti al portiere o comunque essere un po' leziosi, se arriva lì diamo la sensazione di poterlo fare e poi facciamo una giocata e non facciamo gol. bisogna essere un po' più cinici, più cattivi in questo senso, questo sì, da parte di tutti, non solo degli attaccanti.